Bene, oggi proviamo una pazzia. Non ci sto giocando tanto, non tanto per scelta mia, questa piccola rima involontaria. Voglio provare a giocare da lupo solitario. Io, da solo, provare a finire la missione. O comunque a vedere quanto avanti possiamo andare, insomma. C'è questa mappa, prima volta che la gioco, molto interessante di questo vigneto. E vediamo un po' di cosa si tratta, insomma. Trappole non le vedo. Andiamo a giocare con un pompa. Interessante come design. Lui non ha voluto, diciamo, collaborare, ecco. Come si fa per... Ottimo. Vediamo... Rapportato ciò che bisogna riportare. Ricarichiamone nel frattempo. Questo shot è a quanto pare... È uno di quelli, come dire, semi automatici, potremmo dire. Essendo da soli, penso sia più difficile farli arrendere. Quindi io punterei molto a sparare e basta, onestamente. Detto tra noi, ragazzi. Qui nel frattempo... La sua arma? Non c'è. Proseguiamo da qui. Venuto da qui, forse... Non so quante munizioni abbiamo, ma non penso troppe. Sembra libero per ora. Invece è qualcosa che possiamo prendere, trovare, qualche... De passi. Non so. Non so. Non so. Dio mio, la soppressione mi ha fatto sto tizio improvviso. Questa è un effetto molto figo, devo dire. Anche lui aveva il mio shot in quanto delle altre cose Se l'ha arreso ma non importa Vedo che siamo venuti prima Quindi hanno fatto dei giri strani Facciamo il giro Forse di qua c'è un'altra via Immagino di sì Sì esatto Non so quanti nemici ci sono Non punto neanche a finire però voglio vedere Il potenziale del giocare da soli Cosa può portare insomma Delle scale Proviamo a salire Forse ci portano all'interno della casa Voglio immaginare L'interno dell'edificio Noi fino adesso siamo entrati solo Nella zona sotterranea Cantina e quant'altro Interessante Continua a salire Wow Buoniamoci un po' più velocemente Vediamo se Riuscivo a trovare qualcun altro Ho sentito altri passi però Questo posto è un labirinto Da soli forse sono nella mappa migliore Libero Una cucina Una cucina C'è nessuno qui Forse sono all'interno delle stanze Potrei guardare con Esatto Funziona qui Vediamo Niente trapp Oh c'è una trappola in realtà Ok Possiamo evitare questa porta Non c'è nessuno all'interno per ora Direi di muoverci in questa direzione L'obiettivo ha scelto Ok c'è già un tizio qui all'esterno Proviamo ad approcciarla a questa direzione Oddio E' in mezzo alle rocce Ma dovrà uscire Talk to entry team Affirmative entry team Ottimo Oppure uno Guardi da qui c'è un approccio diverso Questo chi cacchio è Un civile? Potrebbe essere un civile Hands up Questa è stata attenta anche civili Sì non è per niente semplice giocare da soli Poco mi assicuro Civili però con vestiti da soldati Tra l'altro I miei compagni di squadra stanno ingaggiando qualcuno Dall'altra parte della mappa E comunque si cominciavano i bot Nella squadra Però noi stiamo giocando da soli Diciamo Quindi io ho lasciato indietro Molto semplicemente Sono molto simile a dove Visto? Allora subito si girano e ti fanno Probabilmente anche perché sono da solo Ma se avessi i compagni con me sarebbe diverso Vedo nessuno di sotto Curiamoci Non mi aspettavo che il tizio uscisse da lì onestamente Questo è un culpo Che c'è dove parlavo Poi c'è Poi c'è Poi c'è Ancora ho detto fuck Quindi forse c'è qualcun altro in giro Non ci vediamo credo Ok Ci vediamo ancora lì Perfetto Una porta chiusa Quello stand sembra pulito per ora Ma mettiamo il civile Ok Adesso Nessun civile morto Una trappola Per ora possiamo anche evitare A mio parere Qua è un problema Abbiamo gente all'esterno Uno di pattuglia Qui sopra Sto pulito sembra L'ho stecchito così bene Che E' rimasto in piedi Ma cosa Mi sta scherzando Lasciamo qui i nostri compagni come sempre Quel tizio è sbocato letteralmente da nulla Di qua non si può andare Però Vorrei vedere se c'è un altro approccio Ulteriore a questa mappa Visto che abbiamo visto Non so se si può direttamente entrare Da dove siamo morti Quindi dall'altra entrata Dall'entrata principale Diciamo della tenuta E' da controllare sta cosa In frattempo non vedo nessuno Potrei approcciare da questa direzione Visto che dovremmo trovare un civile O comunque si spesso In realtà Abbiamo trovato Un tizio Forse giocando da soli sarebbe meglio Un silenziatore Ma questo qua non è morto È sparito Né nulla Ma Ah Il sospetto ha esprimato Sì Sotto terra Fa piacere Continuando con la tua missione Continuando Cerchiamoci un po' più Velocemente E c'è un tizio Ovviamente Doveve l'ho preso Anche se ho visto La torcia muoversi Ma forse perché è caduta a terra Molto Ok Sembra Relativamente Vivo Polizia Hande Ok Proviamoci di qua nel frattempo Certo senza torcia No di qua si torna indietro Ci sono Si rimane nella zona sotterranea Voglio Esplorare molto di più la casa Io Dunque senza torcia sarebbe alla fine In certe circostanze Mamma mia Aiuta tantissimo Un civile qui sotto A imbregarsi Ok Penso sia solo Controlliamo comunque per sicurezza Non è libero Almeno quella parte Anche qui è libero Ok Stai quieto Ovviamente Niente complicato Ancora di più Quando ci sono diversi angoli Dove te ne Dove cacchio Te ne vai Bastardo Non so se quello fuori L'ho fatto fuori Questo è il civile Che sta disturbando Che sta disturbando Non poco Eh no Muoviti invece Te lo dico io Quello è morto Si fuggono Ma lo spettro Verso la La finestra Qualcosa di simile Uno è fatto fuori L'altro non lo so Ok Due morti Perfetto Sendo ancora Tipo Rennamenti Dolore E quant'altro Civile che non l'abbia fatto fuori Per miracolo Sto punto Sicuro Velocemente Sperando Nessuno ci prende Di dare le spalle In questo momento Chiaramente Non abbiamo nessuno A copricci Perché stiamo Giocando a lupo solitario Abbiamo un sospetto morto Qui Scusate Non voglio vedere Le mani Il sospetto Ha esprimato Non è buono 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 Non so bene Come voglio Approcciare questa cosa Stacchito Il gioco è fantastico Comunque ragazzi Mamma mia È fatto bene Dio mio Troppo bene Sapevo che c'era un altro Sulla destra E mi son fatto Credere lo stesso Vediamo le statistiche Però Questa qua È stata un po' più A livello di kill E cose varie Dove ci venire portati Zero su cinque Non l'ho capita questa Cioè Ho arrestato Tre cinque Tre civili Eccetera Per il tuo riporto Da un officer Come Non lo so Comunque Mio dio Questo gioco È fatto bene A me piace un sacco Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti.